Sono arrivati alle 16.30 in punto nel porto di Roccella Ionica i 133 migranti intercettati la scorsa notte dalla Guardia Costiera a bordo di un barcone che stava per affondare a circa 150 miglia a largo della costa ionica calabrese ed esattamente a largo di Capo Spartivento. Il gruppo di migranti è stato trasbordato per motivi di sicurezza sulle due motovedette della Guardia Costiera che li hanno soccorsi. Le motovedette sono la CP321 collocata al porto di Crotone che ne ha trasbordati 59 mentre i 76 sono stati trasportati dalla CP326 distanza al porto di Roccella Ionica. Le due motovedette hanno viaggiato 7 ore per raggiungere sul punto dove era stato localizzato il soccorso ed altre 7 ore per rientrare. I 133 migranti sono provenienti dal Sudan, dall'Egitto e dalla Somalia, due addirittura dalle isole Comore. Sono partiti da un porto libico ed hanno viaggiato per 5 giorni in condizioni precarie. Sono principalmente famiglie, infatti ci sono molte giovani donne e diversi minori ma accompagnati dai genitori. Le unità di salvataggio non hanno potuto trainare il natante per le sue pessime condizioni strutturali e per le condizioni proibitive del mare molto agitato a causa dello scirocco. La decisione di far arrivare i migranti a Roccella Ionica sarebbe stata motivata dall'attuale indisponibilità di posti in altri centri di accoglienza di Calabria e Sicilia. Dopo lo sbarco e l'identificazione sono stati trasportati al centro di primo soccorso di Roccella Ionica dove grazie alla locale protezione civile sono stati rifocillati con acqua e genero alimentari vari. Sul posto insieme alle forze dell'ordine c'erano due funzionari di Frontex, due del Ministero della Salute e ancora i rappresentanti della Croce Rossa italiana della Locride e l'assessore del comune di Roccella Ionica all'immigrazione e protezione civile Bruna Falcone.